Revoluzione Ciao Revoluzione, benvenuti in un altro workout insieme, io sono Elena Rodriguez, tu love trainer. Revoluzione, oggi abbiamo un bellissimo workout di addominali, ai ai ai, livello advanced e se tu sei ready, io sono super ready. Cosa abbiamo bisogno nella nostra lezione di oggi? Oltre al tuo bellissimo corpo piccino e tanta voglia di lavorare, abbiamo bisogno di un manubrio. Una bottiglietta d'acqua, of course, abbiamo sempre il nostro asciugamano vicino, ovviamente ci serve anche un tappetino. Iniziamo Revoluzione, piedi ampi, inspira e diventa altissimo, abbraccia il polso destro e andiamo in una piccola pressione al lato sinistro e cambia. Torna al centro, perfetto, mani in su, i quadricipiti, spalle basse con lo lungo, spalla destra, lato sinistro. Ottimo, allungamento, ma soprattutto anche un ottimo movimento per iniziare a rilassare la zona toracica e lavorare meglio i tuoi addominali. Cambio, torna al centro, non perderemo troppo tempo e ci mettiamo subito a lavorare perché abbiamo tanto, tanto da fare. Oggi il nostro workout sarà tanto focus su gli obliqui, su questi rotolini ai lati e anche la parte bassa degli addominali, questa panzita qua. Per cui ci mettiamo Revoluzione all'opera, vieni con me e iniziamo a sdraiarci. Lascia vicino il tuo manubrio che ci servirà. Ok, Revolution, mani dietro la testa, super ready, steady, spaghetti, let's go, singoli. Vamos. Sono 4 minuti di lavoro, ricorda, non stop, voglio 30 secondi, crunches. Come on, perfetto. Ok, Revolution, mancano 15 secondi, lasciami i gomiti verso fuori, guarda l'ombelico, guarda verso le tue cosce, ricorda che il movimento devi partire dalle tue addominali e non da lato, ok? Ok, destro, vado a cercare la parte esterna del mio talone, 30 secondi, ok? Nel frattempo il mio gomito sinistro rimane verso fuori, attenzione perché tra poco faremo un cambio posizione, andremo a distendere la gamba sinistra lungo il fianco e nel frattempo continueremo a fare lo stesso movimento al lato, ok? Vai, vai, cambio, distendo la gamba e continua, vai, go, go, go. La gamba sinistra è distesa, piedi in linea con l'anca, continua, non dire che non te l'ho detto, eh? Vai, 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 beh. Anzi, ci mancano 5 secondi adesso, 4, 3, 2, cambia, entrambe le gambe in flessione, flessione laterale, cerco la parte esterna del talone, revolution, andremo a fare la stessa cosa, distenderò. In questo caso la gamba destra lungo il fianco, ok? Piede e ginocchia saranno in linea, il piede e ginocchio adesso saranno in linea con l'anca. E ci mancano 5 secondi, pronto, revolution, 3, 2, 1, distende. Gamba destra e continua nella flessione a lato, go, go. Ok, ti ricordo, revolution, che le scapole e la testa sono su, eh? Il più su possibile. Vammo, go. Hey, 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 5, 4, 3, 2, 1, prende il tuo manubrio, gambe in flessione, perfetto, piedi in linea con le anche, go, revolution, distende, scendi lento. Ok, non portiamo le braccia indietro, polsi in linea con le spalle, go. Scendi lento, scendi lento, in ex, scendi lento, go, respiro, vamos, respiro, vai, lento, scendi, ok, revolution, ci manca ancora un minuto. Distende gambe, distende gambe, scendi lento, una a una le vertebre, go, spira su, vamos, ok, revolution, non ci saranno pause, mi spiace. Non c'è tempo da perdere, 30 secondi. Gambi di sette, io parto adesso, attenzione, lasciando il mio manubrio al lato, mani dietro la testa e vado un lato, la volta a cercare la parte esterna del mio ginocchio. S, ok, nel frattempo i talloni sono incollati a terra, ok? Sale bene con le scapole e la testa, guarda l'ombilicco, guarda un punto tra i tuoi piedi. Vamos, hop, 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 cerca quella flessione laterale, 10 secondi, molto bene, continua così, go, hop, 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 hop. Arriva il nostro lavoro per la parte bassa degli addominali, ok? 5 secondi, 4, 3, 2 e 1. Prende il tuo manubrio, gambe a tavolino, ok. Ok, inspiro, allungo, e ginocchio al vetto, go. È importante in questo movimento lavorare lento, eh, perché non deve essere un movimento guidato da la inerzia, ok? O dai slanci. No, no, è tutto focus negli addominali. In, 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 hey, cow, breathe in, ad ass, molto bene, cow, ancora uno, OMG, distinto, cow, seguirino, hey, didn't you do one for me? Baby, what do you want for me? Ok, incrocio, vai, vai, vai. Vai, 10 secondi, vamos, vamos, 4, 3, 2, and 1. Ai, 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 tocco, tocco, up, tocco, S, appoggio, 30 secondi, stop, S, tocco, S, tocco, S, tocco, show, appoggio, hey, appoggio. Appoggio, ass, vamos, ok, 30 secondi ancora, roll, and up, roll, and up. Rilascia le spalle, rilascia il manubrio e lascia il manubrio incollare le tue mani a terra, appoggio, hop, appoggio, jump, time, S, 10 secondi. Lascia il manubre all'atto e vai Scappone all'atto Un minuto revolution Sali scappone e testa vai vai Tocca parte esterna dei talloni Parte esterna delle le tue scarpe Segui il ritmo Dai che ce l'abbiamo qua Follow the rhythm Hey, 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 hey 30 secondi ancora Go Continua Vamos Go Go Non ti fermare 15 secondi Vamos, vamos 10, 9, 8 Go 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 Ci siamo quasi Up con le scapole 3, 2, 1 And stop Perfetto Revolution Cambio Vieni con me Andiamo a lavorare Attenzione In plank Io sicuramente mi sono spettinata nel frattempo Ok, lavoriamo in plank Sempre un lavoro che andrà a fare focus sugli obliqui ma anche la parte bassa degli addominali Guarda, appoggio Passi indietro Incrocio e affondo col bacino Go Incrocio e affondo Up Hey Ok, revolution Non in scherzo Adesso seguiamo il rimo della musica Ready Go I'm looking for someone new Go I just close my eyes and hate To do Hey Go Affondo Aspiro Scendo col bacino Me la vicino Al tappetino ma non lo tocco Go Affondo In S Hey Hey Go 30 secondi ancora Go Hey Respiro Hey 15 secondi Vamos Go 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 Trova il tuo ritmo Revolution Go Questo è l'ultimo Stop E Ricupera Cambio appoggio sugli avambracci Super ready Breathe in Out Distendo Gambe toccano Pavimento Distendo Go Dopo appena appena Go 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 Alterno Go Go Senza toccare Controllo Go Hey Go 20 secondi Vamos Ci siamo quasi Go Ancora uno Perfetto Stop Torno appoggio sui palmi Distendo Respiro Three Two One Side plank Go Respiro Stai Go Lato Distendo Torno Vamos Stai Mano dietro la testa Incrocio Vado a cercare il gomito 30 secondi per lato Respiro And And Go And 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 Okay 15 secondi Come on Go 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 Okay Five Seconds One more Stop Perfect Cambia lato Io mi giro così e riesci ad apprezzare meglio il movimento Tu preparati Tu preparati Apro Three seconds Together Go Hey Apro Vamo Vamo In S Le gambe stabili Il dorso Che ruota Respira I'm so sick of waiting Con calma Revolution No rush Come on Vamo Okay Ci siamo quasi In Ancora uno Perfect Appoggio Molto bene Piccolo allungamento in cow Allungati in cow Inspira Appoggia punta dei piedi Stacco Passo indietro Trottolo E sciolgo spalle Revolution Good job Lascia cadere braccia Perfetto Revolution Grazie Grazie mille per avermi accompagnato in questo workout Ricorda che io sono qua per te Anytime Anywhere Donde chieras Alla ora che chieras Perché siamo Ad un click Di distanza Revolution Ci vediamo Al prossimo workout Insieme Ciao 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 Grazie.